Questo sketch, il dialetto saccosimese, è ambientato in paradiso, dove due amici, Antonio e Francesco, si rincontrano dopo tanto tempo. State attenti e ascoltate. Ma chi, non è Francesco? Ma sì, è proprio questo. Francesco! Francesco! E tu, Gniuccio! Hai visto? Le montagne non si incontrano. Hai visto, voglio? Le montagne non si incontrano. Puro che tu sei morto prima, alla fine ci siamo incontrati a casa. Ma tu, da quando sei morto? Che farlo da di dopo di te? E c'è messo tutto che sopra di qua. No, il paradiso è rosso. E per lo girare ci va a tiempio. Ha già incontrato tanta di quella gente. E parlo con uno. E parlo con un altro. E a tiempio passa. E poi, che presto a porti. Guarda che ti accadrà da io. Ma come ti sei pescuto più? Puro tu! Ti hai visto solesti tuosso? Tu non è da morire se mette una giacca e torsa. Ti ricordi che dopo la terra sembri gli stessi cioceri. Non c'hai detto che il pane è caldo, ma l'ombrella è un cuore e via a facci le pecore, a facci le rapi, con l'acqua e con gli uvieni. Non stiamo tanto buoni. Si è godea, ma si è campato. Che sei lo vero. Ma ogni tanto succedeva pure qualcosa di bello. Ti ricordi che la sera, che la notte, quando stiamo a parare le pecore, all'ho fritto sotto le stelle. E poi, all'ascordata, una botta è su da una luce forte e forte in mezzo agli uccelli. E chi era l'angelo? Come? D'unico che stai a dici? Ma non te l'hai ascordata. Ma invece pensate. Oh, ma che si è successo tanta lì fa, quando eravamo ancora venuti noi? Ah, mo mi ricordo, si, si, che l'angelo non c'era, che ci ha messo quasi a paura. Tu ci ha detto che le belle cose e ci siamo abbiati per vedere che era successo. Eh, tu hai abbiato un abbiato che la pittuozza e oggi hai portato un amiello per regalare la creatura caranale. E la ricordi bene che era pagliarella e là dentro, proprio dentro la maniatura. E come me la faccio scordare? Oh, in dottima, ci stia che la bella creatura appena nata. Era proprio piccerella piccerella. Era così bella. Ma se la, quant'anni sono passate? E chi se la ricorda? Non ho mai saputo contare pecore che tenero. E pure te. Se posso sapere quant'anni sono passate. Ma so sai, che sabbia, saggio. Eh, Francis, so da era, sai. So' 2016 anni che è successo questo. Quant'anni so passate. Ma non lo sai che era l'ionismo? E come lo faccio, saluto? Era gente polastera. Se tropeva di passaggio. Ma una cosa è certa. Non me l'ho già scordato. Era troppo bello. Era quasi strano. Era curioso. Vedendo la creatura di quella maniera. Dimmelo tu, chiedere. Ma no. È impossibile. A te te toglie le pazziate. Era a te. E pure che se la verità. voglio, io me ne si è accorto subito. Puro tanto. Solo questo potrebbe essere. Lo figlio degli ho patatello. Io a tutto. Io a tutto potrei pensare. Forre che a chesso. Tutto mi potrei immaginare. Forre che Cristo gli ha nascito in tanna stalla. Mi paremmo poco strano, pillonino. Se vedete che tu, si ciunde dicendo di me. Tu hai fatto le scone di auto. Se te ne si è accorto subito. Ora, da tanto, la gente fa festa ogni anno per ricordare che è la nascita. E che è la giornata ciò bella di tutto l'anno. Se tu, se tu li vedessi, se tu sapessi che è lo che fanno gli uomini. Se tu li vedessi, rimanissi meravigliato. Tutti sanno bene. Se scagnano le puni. Puro gli assassini ande vendono buone con le pecorelle. O voglio vedere? Chi? Gli uomini che fanno festa a Natale. Adò? Pelle in là, dopo alla terra. Ma perché tu ci sei già stato? Tutti gli anni ci vai. Faccio la scappata e tu. Mi hanno dato un nuovo permesso speciale. E andiamo a vedere, questo è qua diventato curioso. Partirono. Partirono. Adocchiarono un lampione. Li puntarono sopra. Il lampione divenne una miriade di lampioni. Era un paese. Santi Cosmo e Damiano. Ed eccoli. Antonio e Francesco. Invisibili al girarsi per le vede del centro. Era uno spettacolo impressionante. I mille lumi delle vetrine. I festoni. Gli avveti. Lo sterminato ingorgo degli automobili. Il fornicolio vertiginoso della gente che andava e veniva. Che entrava e usciva. Si accalcavano i migliori. Si caricava dei panchi e pacchetti. Tutti con espressione ansiosa. Prenetica. Come se fossero inseguiti. E' la prima. Grazie. Ma voglio. No. Ma dove mi portavo? Mi hai detto che mi ha detto Natale. Pensavo che ti sei sbagliato. A tutti i minuti ho finito. A casa tutti i pazzi. Cristo è natale, caro Francesco, tu non lo sapete perché non è sempre mostro dal mio paradiso, quando eri vivo non c'è mai il nato paese. Chi sti che figli, sono uomini moderni, tutti i rumori che senti è il loro progresso, goppa la terra, la gente per si divertì, per stare con i denti, per s'adegrare il cuore, s'è andato a rovinare gli neri, s'è andato a esaurire. Lei, ma dite, sei sicuro che questo non so pazzo? No, non ci so pazzo, questa è la festa di Natale. Oh, ma questo è troppo, non lo ricordi che la notte a quel teletto, che è la capanna, gli audipecorari, faceva fritto pure alla, però se stia a quel, era la pace del Dio, non era a piegno. E' lo vero, e' lo vero, e' raggiù meglio di me, e ci stiano pure gli zambogliari che suonavano, e chi lo suona faceva recreare. E dopo agli canali della pagliarella, ci stanno tutti gli uccelli. Ma quali uccelli, chi glielo è davanti? E te la ricordi che è la stella, come era curiosa, tenendo ancora la un belonna, se speravano proprio un po' per la capanna, ce l'ha fatta ancora subito per la pagliarella. Chi lo sa, se ci sta ancora che la stella? Mi sa proprio del nord, le cose belle del nord, ne esistono giù in coppa alla terra, tremendo all'aria, ci sta tutto il fumo, come farvi delle stelle? Chi sa da dov'è tutto il suo fumo? Dice i minieri, non ci fume che non ci sono, i popolari, ci stanno ci sono in dalle cazze. Secondo me, sono tutte queste macchine che cacciano il suo fumo. Uè, mo senti a me, diamoci in paradiso. Allà, se sta meglio. Meno male, che quando eravamo vivi, avevamo fatto qualcosa di buono. Alla meno, ce lo trovavo muo, dopo molti che siamo in paradiso. Meno male, a Dero e Franchi, chi fa lo buono, se lo trova. Noi non abbiamo mai sciarrato, ci siamo sempre aiutati. E lo vè? Che so le si dice alla gente nemo, a questa gente moderna, che credete se li aveva accattati di un mino? Corri, cerchiamo, da qua e da là. E non sanno che l'unica cosa da fare è volerci bene. Io riesco, è da solo. Fiammo cerchiamo. Grazie. 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 Grazie.